Città dello Sazi, il patrimonio dell'UNESCO, come si chiama? Ha vinto la città della cultura. Ivan, qual è la tua città? Patrimonio dell'UNESCO e vinto la città della cultura. Andiamo qua. Questa è il sasso numero uno? Questa è la tipa che ha detto dopo l'edicolo. Buongiorno, sasso, c'è scritto fuori. Ancora scale e c'ho ancora male i polpacci da ieri. Adesso andiamo a vedere, percorriamo Matera proprio dal centro diciamo, da dove ci sono i sassi per risalire dopo dove c'è la basilica. Credo che questo è l'edicolo in area turistico, lo facciamo anche noi. Ci siamo trovati qua per caso. Non dove vado di dirci, ma siccome ci siamo passati proprio all'alto. Quindi qui girarono il film, la film, la passione del grito di Mel Gibson. Questa è la seconda città più vecchia del mondo. La prima è quella di Jerusalen? La prima è Jerusalen. La prima è Jerusalen. Questa è la seconda città più vecchia del mondo. Più vecchia del mondo. Più vecchia, in spagnolo. Si vedi che la città è più vecchia. Guarda che roba. Sì, la fascia varigiane. L'ascia varigiane chiamate se no? Sì, la fascia varigiane. Sì, è benissimo. 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 Sì, Albert Einstein ha detto tante cose. Sì, è benissimo. 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 Sì. Sì, è benissimo. Sì. Sì. Sì, è benissimo. 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 Sì, è benissimo.